Gli strumenti operativi. Le relazioni fondamentali per l'economia aziendale. Quali sono le relazioni fondamentali per l'economia aziendale? Le equivalenze si utilizzano per la soluzione di problemi in cui ricorrono grandezze fondamentali, come peso lordo, peso netto e tara. Il peso lordo è la somma fra il peso netto della merce, che equivale al peso senza contenitore, e la tara, cioè il peso del contenitore. Vediamo insieme un esempio. La gelateria Fresh Cream vende il suo gelato in vaschette dal peso di un etto l'una. La signora Marisa acquista una vaschetta contenente un chilo di gelato. La tara è il peso della sola vaschetta. Un etto uguale 0,1 chilo. Il peso netto è il peso del gelato acquistato, un chilo. Il peso lordo è il peso della vaschetta più il peso del gelato, 1,1 chilo. Dalla relazione peso lordo uguale peso netto più tara, possiamo ricavare le relazioni peso netto uguale peso lordo meno tara. Tara uguale peso lordo meno peso netto. Le equivalenze si utilizzano anche in relazione a ricavo, costo d'acquisto, utile e perdita. Il ricavo di vendita è la somma incassata dalla vendita di beni o servizi. Il costo d'acquisto è la somma spesa per l'acquisto di fattori produttivi, materie prime, forza lavoro, servizi, ecc. La differenza fra ricavo di vendita e costo di acquisto, nell'ipotesi che il ricavo sia maggiore del costo, prende il nome di utile o profitto o guadagno. La differenza fra costo di acquisto e ricavo di vendita, nell'ipotesi che il costo sia maggiore del ricavo, prende il nome di perdita. Si possono definire le seguenti relazioni fondamentali. Vediamo insieme un esempio. Nella prima riga viene indicato un utile, quindi il ricavo è maggiore dei costi. La relazione da applicare è ricavo uguale costo più utile, da cui ricavo uguale 2.500 più 700 uguale 3.200 euro. Nella seconda riga il costo è maggiore del ricavo, quindi dobbiamo individuare una perdita. La relazione da applicare è perdita uguale costo meno ricavo, da cui perdita uguale 18.000 meno 10.000 uguale 8.000 euro. Il prezzo di acquisto o di vendita è riferito al peso della merce senza l'imballaggio, peso netto. Si possono definire due relazioni fondamentali. Costo di acquisto uguale peso netto per prezzo di acquisto. Ricavo di vendita uguale peso netto per prezzo di vendita. Vediamo insieme un esempio. La Fresh Cream acquista una partita di zucchero a 80 euro per quintale. La merce ha un peso lordo di 9 tonnellate e una tara di 2 quintali. Calcoliamo il costo di acquisto. Il prezzo di acquisto è indicato in quintali. Trasformiamo il peso lordo in quintali. 9 tonnellate uguale 90 quintali. Calcoliamo il peso netto. Uguale peso lordo meno tara uguale 90 quintali meno 2 quintali uguale 88 quintali. Calcoliamo quindi il costo di acquisto. Peso netto per prezzo di acquisto. Uguale 88 quintali per 80 euro. Per quintale uguale 7040 euro. Riepilogando. Le grandezze fondamentali per l'economia aziendale sono Relativamente ai pesi, il peso netto, peso della merce senza imballaggio, la tara, peso dell'imballaggio, e il peso lordo, cioè la somma tra peso netto e tara. Relativamente agli importi, il ricavo, somma incassata dalla vendita di beni o servizi, e il costo di acquisto, somma spesa per l'acquisto dei fattori produttivi. Se il costo è maggiore del ricavo, si ha una perdita. Se il ricavo è maggiore del costo, si ha un utile. Il costo di acquisto o il ricavo di vendita di un prodotto è sempre riferito al suo peso netto.